Aspetta che arrivo, aspetta che arrivo. Siete tutte? Siete tutte? Andiamo fatta a entrare! Grazie Matti, brava! Pronti le sue mani! Uno, due, tre, volate campagne! Facessero vedere questa splendida medaglia alla nostra telecamera, eccole qui le medaglie della nostra nazionale, la medaglia numero 40 dell'Olimpiade Azzurra, che bella medaglia! Complimenti a loro, complimenti a loro! Grazie a tutti!